Guarda che no, ma che stronzo, pupino! Non c'è la storia! Guarda che filiputtana! La mettiamo su Facebook! Ma no, adesso lo sta facendo! Ma che scemo! Non so come far funzionare questo tuo padre, perché è veramente scemo! Un gatto violento! Ma il problema è che non gli fai niente il cane! Si abbracciano? Si! Non solo con i maschi, qua 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 qua! In un po' come fai a fare il vicino? Con la zoom! Allora la zoom! Di lato! Non ho mai trovato la zoom, quale zoom? Di lato! Il volume! Ah si? Adesso lo dici! Peccata che non ero dall'altra parte! Il manual sta riprendendo! No! Ah si! Si! Ma non so qua! Nocciolina dimmi che non prende un uovo perché io ti ammazzo! si! Ah che bello teso! Direi che il mio uovo è andato! Ah mi tagliele! Perché c'è la macciolina! No! Si! Sul tavolo! Si! Ma si scuro? Si! Guarda l'altro! Dove è? Ah! Tu non ti permetti di andare sul tavolo! io ho i ricetti guarda matta